Sarà una serata importante e ricca di avvenimenti, quella che concluderà la dodicesima edizione dell'Aquila Film Festival, una chiusura all'altezza dei quattro mesi di festival che hanno visto centinaia di persone assistere alle proiezioni e agli incontri a Palazzetto dei Nobili. Dopo aver portato all'Aquila pellicola internazionale di pregio, alcune delle quali già premiate nei festival più famosi del mondo, tra cui meritano di essere citati Festival di Cannes e Berlino, ed aver proposto un approfondimento dedicato alle opere prime e seconde dei registi italiani, si scoprirà finalmente quali sono i film e i cortometraggi vincitore dell'edizione che volge al termine. Verrà svelato anche il film in concorso vincitore del premio del pubblico, chiamato a giudicare il gradimento delle pellicole nel corso dei mesi di proiezione, come d'abitudine ormai consolidata dell'Aquila Film Festival. La cerimonia finale avrà luogo all'editorium del parco e sarà aperta da un evento enogastronomico curato da produttori locali, accompagnata dal Musica dal Vivo, con l'esecuzione di musiche da film riarrangiate per archi. Ospite della serata, l'attrice Carolina Crescentini, eccellenza del cinema italiano. A lei, nei giorni precedenti, è stata dedicata una retrospettiva e i vincitori dei concorsi saranno presenti. Oltre ai giurati, il professor Massimo Fusillo, il direttore del CSC Sede Abruzzo Daniele Segre e il produttore cinematografico Giuseppe Menna. Saranno presenti anche i componenti della giuria studentesca dell'Università, del Centro Sperimentale dell'Accademia di Belle Arti, accompagnati dalle coordinatrici, professoressa Ornella Calvarese e Alessia Moretti. L'incontro con Carolina Crescentini sarà tenuto dal professor Massimo Fusillo. Rappresenterà l'ultimo dei dialoghi sul cinema della dodicesima stagione dell'Aquila Film Festival. Ripercorrerà le tappe della carriera dell'attrice. L'appuntamento è per giovedì 3 maggio all'editorium del parco, a partire dalle 18.30 con l'aperitivo di apertura. Alle 20 la cerimonia conclusiva. Sviluppare appuntamenti solidari.